Benvenuti! Finalmente oggi vi parlo del DJI Osmo Pocket. L'ho usato per qualche settimana e ora vi posso dire finalmente che cosa ne penso. Non ho voluto farvi un video subito perché volevo provarlo bene prima di parlarvene. E anche perché avrà un utilizzo ben specifico per il mio secondo canale, Airframes Adventure, che tra l'altro vi lascio in descrizione e di cui dopo vi parlo. Ma ora dedichiamoci all'Osmo. Una volta aperto e trovati questi due volantini, all'interno della scatola troviamo i manuali, l'adattatore USB-C o Lightning per attaccare il cellulare all'Osmo, l'Osmo Pocket, il cavo USB-A o USB-C per la ricarica o è un laccetto per attaccarselo al polso? Che all'inizio pensavo fosse stupido e in realtà può aver senso averlo. Che quando lo togli dalla custodia poi puoi tenere la custodia attaccata al tuo polso e far sì che non ti dia fastidio. Esperienza di unboxing pulita e poca roba nella scatola. Giusto l'essenziale, nessun accessorio. Gli accessori stanno uscendo man mano e cominciano ad essere disponibili sul sito DJI e ce ne sono di diversi tipi. Ok, ora due informazioni sull'Osmo Pocket. È lungo 121,9 mm x 28,6 x 36,9. Pesa 116 grammi e registra video in 4K a 60 frame al secondo e 120 frame al secondo in 1080p. Pubblici stanno 140 minuti di batteria ed effettivamente dura tantissimo la batteria. Non mi è mai successo di restare a secco o dire cavolo è finita la batteria e mi serve ancora per la durata della giornata. Me lo portavo nei parchi di divertimento tipo a Disneyland e mi è durato per tutta quanta la giornata e sono arrivato a casa con ancora più della metà della batteria. Usandolo parecchio. Tra l'altro si ricarica via USB-C il che è anche comodo se avete un powerbank dietro potete attaccarlo al powerbank e caricarlo mentre siete in giro. Ha due tasti fisici sul davanti, uno per far partire la registrazione e l'altro multifunzione. Per accendere il dispositivo, passare dalla modalità fotografica a quella video, oppure per girare la camera con tre tap o mentre stai registrando per ricentrare il soggetto con un solo tap. Insomma, multifunzione. E ha anche un mini schermetto che ti permette di vedere che cosa stai inquadrando in linea generale ed è molto utile per il semplice fatto che ti permette di vedere se sei in frame o e poi all'ingresso per le schede microSD. L'obiettivo principale di questo dispositivo secondo me è il vloggare o al massimo realizzare belle inquadrature stabilizzate. Per questo motivo la cosa migliore è testarlo sul campo e siccome qua fuori fa abbastanza freddo direi di testarlo in California, a Los Angeles. Ok, cominciamo il test dell'Osmo non in una delle condizioni migliori, ovvero c'è il mare, c'è il casino e mi trovo in questo momento al Santa Monica Pier. Questo alle mie spalle è il Pacific Park. Sto usando l'Osmo da ormai un po' di giorni, ci ho fatto dei video per il mio secondo canale che trovate in descrizione. Date un'occhiata a quei video, sono molto interessanti, sono mie esperienze personali, mie avventure. Se vi interessa appunto quello che ho fatto qua a Los Angeles, Park Review o tutto questo che appunto non riguarda magari la tecnologia, date un'occhiata al secondo canale. Detto questo, vi dicevo, lo sto testando da un po' di giorni e mi ci sto trovando davvero bene. Ok, passiamo alla domanda che ci interessa. Vloggare con l'Osmo, è possibile vloggare con l'Osmo? Funziona? Si riesce? Ha senso? Bene, per il secondo canale, come vi ho detto, io sto vloggando con l'Osmo. Sto usando praticamente al 99% l'Osmo per tutto quello che faccio lì. Perché sono poi racconti di mie esperienze, mie avventure. Ho bisogno di qualcosa che mi permetta di catturare quello che faccio in maniera veloce e che mi possa portare ovunque. E l'Osmo questo lo può fare. Si ficca in tasca e sta lì nella sua custodia, al sicuro. Come si fa quindi a vloggare con l'Osmo e come funziona? Allora, ci sono diverse modalità da cui potete scegliere. Che sono follow, che segue quello che state inquadrando ma in maniera super super lente. Potete selezionare che cosa fargli seguire. La modalità blocco tilt o blocco pan, che vi permette di fare solo o tilt o pan e blocca l'altro asse praticamente. Sempre per fare inquadrature stabili, ecco. E infine la funzione che poi effettivamente volete usare, che è la funzione FPV. Che è questa funzione che sto usando adesso, che risponde molto bene, stabilizza l'immagine, ma allo stesso tempo non vi dà un look troppo nauseante, dà immagine troppo stabilizzata. E vi permette di inquadrare velocemente che cosa dovete inquadrare. O insomma, quello che sta succedendo intorno a voi. Con tre tap sul tasto nero potete girare la camera e inquadrare quello che sta succedendo dall'altro lato. Avendo sempre comunque il microfono girato dal vostro lato, con l'altro tasto potete far partire o stoppare la registrazione. E potete riprendere da qualsiasi angolo in questa modalità, è davvero la modalità perfetta per fare vlog. Anche al contrario, volendo. Ora, come funziona? Funziona bene? Ha senso? Io mi trovo davvero bene, per quello che devo fare per il secondo canale. Non è perfetto, no, assolutamente no. Anche perché il microfono, quando c'è tanto casino, attiva la soppressione del rumore esterno, quindi cerca di isolare la vostra voce. Ma nel farlo, spesso fa dei casini. Crea degli artefatti pure sulla vostra voce. L'OSMO è potentissimo, quindi è una macchina incredibile, ma ha bisogno di sistemare alcune cose ancora, che però potrebbero essere tranquillamente sistemate semplicemente con aggiornamenti software, che stanno in realtà arrivando. Anche solo il fatto che non si può registrare con un profilo colore flat. Ok, in realtà nell'ultimo periodo hanno rilasciato un aggiornamento software che permette ora di utilizzare il profilo flat e di controllare tutte le impostazioni direttamente dall'OSMO. Prima non si poteva fare le impostazioni PRO, insomma, si potevano controllare semplicemente tramite lo smartphone, che era una cosa assurda secondo me, perché usarlo con lo smartphone attaccato perde il suo valore di essere un oggetto minuscolo che ti sta in tasca, che è poi il suo punto di forza. Quindi ora che tutte le impostazioni si possono gestire da questo mini schermetto, ha veramente senso. In più è davvero molto semplice da utilizzare, per cui. Quindi sì, adesso la modalità PRO si può utilizzare da qua e si possono impostare tutte le impostazioni di base. Comunque questo dispositivo nasce con l'app DJI Mimo, che si attiva quando connetti il telefono all'OSMO e che ti permette di controllare tutto quello che puoi controllare a questo punto, anche dall'OSMO, tramite un telefono avendo uno schermo più grosso, che è una bella cosa. Ovviamente quando stiamo parlando di un'inquadratura pensata, che vuoi realizzare in maniera perfetta, allora usare il telefono con l'OSMO ci sta. Se il tuo obiettivo è avere riprese stabilizzate per non so che cosa, un corto che stai girando, qualsiasi cosa, allora ha senso usarlo così, ma per vloggare secondo me questo è il punto di forza e non il fatto di avere anche il telefono. Però all'occorrenza lo si può attaccare. Lati negativi dell'OSMO. Innanzitutto non ha una vite da 3.5 mm qua sotto, che è un peccato perché non ti permetti di attaccarlo su nessun cavalletto, se non sfruttando l'adattatore GoPro che ti devi comprare a parte, che però si attacca lateralmente, quindi l'attacco sta poi qua, quindi è un po' scomodo da mettere una vite da 3.5 qua sotto sarebbe stata un'ottima idea. Perché in alcuni casi ti puoi trovare un po' incasinato. Si fa, però il tutto è un pochino più rischioso. Secondo lato negativo, l'inquadratura è un pochino troppo stretta, sarebbe decisamente meglio avere un grand'angolo, soprattutto per vloggare, oppure siccome nel DJI Mavic Zoom è presente la possibilità di zoomare, non sarebbe male avere la possibilità di avere uno zoom, ma non tanto per avere un effettivo zoom sulla camera, ma per poter passare da un grand'angolo ad un'inquadratura più naturale. Questa sarebbe un'aggiunta a niente male. E infine nei vlog da Disneyland, e in generale nei video che trovate sul secondo canale delle mie avventure, alcune volte, soprattutto nei primi video, tendo a tagliarmi un pochino la testa quando non sto guardando l'osmo. Ma non perché la funzione di tracking non funzioni, perché non si usa il tracking per vloggare. Come vi ho detto prima si usa la modalità FPV. Chi vlogga con la modalità tracking è un idiota. Ma no, per il semplice fatto che non puoi pretendere che becchi sempre la tua faccia, ci sono altre persone in giro e se perde la tua faccia per evitare di rischiare di bloccarsi su altre persone che ti passano dietro, perde il tracking. Quindi usatelo in modalità FPV. Però anche in quel caso lui tende a registrare leggermente puntato verso il basso. Potete pingerla un pochino verso l'alto, proprio manualmente, e lui si regola. E' fatto per fare questa cosa. Oppure, semplicemente imparate a tenere il polso nel modo giusto. Io man mano, a forza di utilizzarlo, ho capito come tenerlo e quindi ho smesso poi di fare quell'errore. Però ecco, è proprio solo una questione di cominciare a imparare. Per quanto riguarda invece le cose positive, il punto focale fondamentale è che è minuscolo. Io per tutti i giorni in cui sono stato a Los Angeles l'ho sempre tenuto in tasca, continuamente, e non mi ha mai dato fastidio, non mi ha mai ingombrato. Ci sono state intere giornate in cui nemmeno l'ho utilizzato, però lo avevo comunque in caso di necessità. E questa roba è pazzesca. Anche perché quando non hai bisogno lo tiri fuori dalla scatola, lo accendi, e in un giro di qualche secondo è attivo e puoi registrare. Va bene, non è veloce quanto tirar fuori il telefono, fare swipe e registrare. Però dipende anche da che telefono hai. Se hai l'ultimo iPhone, la cosa è decisamente più veloce. Per tutto il resto funziona bene a sufficienza. Nel senso che, sì, probabilmente la qualità è simile a quella di uno smartphone. Anche perché il sensore è quello che è. Ma, in quanto stabilizzazione, vabbè, non c'è paragone con uno smartphone. È mille volte meglio. Ma soprattutto il punto focale è che è una minicamera dedicata interamente a questo. Certo, chi ha l'iPhone da quasi 2000€, con un sacco di memoria, può permettersi di registrare con un iPhone. Anche se poi ti crea un'infinità di file che devi trasferire sul computer. Ed è un processo lungo. Per me, per come la vedo io, è mille volte meglio avere un dispositivo dedicato alla registrazione di video. E o ti prendi un secondo iPhone, che però spendi decisamente di più, oppure prendi un dispositivo del genere e lo sfrutti per vloggare quando sei in giro. E secondo me a 350€ su Amazon, vi lascio il link in descrizione, potrebbe essere perfetto anche per molti di voi che hanno intenzione di cominciare a vloggare, o magari fare video di viaggio. È davvero super versatile. Per di più se state iniziando è talmente piccolo che non vi dovete vergognare a vloggare in giro, perché nessuno lo nota, cioè voglio dire, dai. Bene, per quanto riguarda il mio secondo canale, invece, come vi dicevo prima, l'ho aperto. Lo trovate in descrizione e sopra ci trovate un sacco di video dedicati alle mie avventure. Magari la volta in cui mi invitano ad un evento, vloggo quello che succede. La volta in cui vado in un parco divertimenti, racconto la mia esperienza. Insomma, è un canale di esperienze, non ho nessuna pretesa per quel canale. Se vi interessa iscrivetevi, se non vi interessa non iscrivetevi. E noi ci rivediamo, come al solito, il lunedì e il venerdì, sempre qua, su Ephraim's Tube. È proprio figo.